Non so se avete mai sentito parlare di gruppi di acquisto, si tratta di un'abitudine non molto diffusa qui da noi in Italia ma che in altri paesi ha fatto persino la fortuna del movimento dei consumatori, perché come dice la parola stessa si tratta di unire le esigenze di molti consumatori, di farne un gruppo e di procedere a degli acquisti in modo collettivo, così risparmiando in termini di costi ma anche avendo la garanzia di accorciare la filiera. Pensate che la storia dei gruppi di acquisto nasce proprio con queste riunioni di consumatori, di famiglie dove un singolo soggetto si propone per l'acquisto di un determinato prodotto, generalmente parliamo di prodotti alimentari e durante questa riunione li fa assaggiare agli altri consumatori, così se si realizza una coesione del gruppo quel soggetto diventa il responsabile dell'acquisto, cioè sarà lui ad andare a comprare da grossisti, fornitori o persino direttamente dal produttore quella categoria di prodotto per tutte le famiglie che aderiscono al gruppo di acquisto. In questo modo come dicevo non solo si accorcia la filiera e quindi si ottengono dei significativi risparmi, ma un gruppo di consumatori consistente può anche premiare un operatore piuttosto che un altro e perché no fare delle scelte etiche che orientino il mercato. Dicevo che nel nostro paese i gruppi di acquisto non hanno avuto un grandissimo successo, è storia comunque recente di fini anni 90 e hanno poi avuto un riconoscimento nella legge finanziaria del 2008, ma si tratta comunque di esperienze ancora poco sviluppate. Eppure si aprono nuove frontiere per un particolare tipo di consumatore che forse non andrà ad acquistare direttamente dal produttore, ma che può comunque guadagnarsi dei vantaggi in termini di prezzo ma anche in termini di tutela dei diritti. Mi riferisco al settore dell'energia, sì proprio quelle forniture energetiche che un tempo davamo per scontate prima che il mercato fosse liberalizzato, le nostre nonne dicevano pago la luce e non si preoccupavano se pagavano il giusto, se c'era un altro fornitore che poteva offrire delle migliori condizioni, perché era l'epoca, quella delle nostre nonne, dove c'era un unico fornitore monopolista e spesso questo era lo Stato. Poi privatizzazioni, infine la liberalizzazione del mercato e oggi ciascuno di noi non solo è più attento alla bolletta elettrica, che sia elettrica del gas o dell'acqua, ma può anche cambiare fornitore. Così scegliendo il prodotto, chiamiamolo così, più adatto alle nostre esigenze, ai nostri consumi. Magari sono una persona che lavora tutto il giorno e quindi durante la giornata ha bassi consumi energetici o viceversa sono all'interno di una famiglia dove ci sono molte persone che stanno all'interno dell'abitazione nelle ore diurne e quindi è in quel momento che si sviluppano i consumi più intensi. Insomma, alla domanda che molti consumatori ci fanno, indicatemi voi dell'unione consumatori, qual è l'operatore che fa il mio caso, fatichiamo a rispondere perché dovremmo fare tante domande al consumatore e chiedere a lui che tipo di consumatore è, come consuma l'energia elettrica, come consuma il gas, come consuma l'acqua, perché non abbiamo detto che naturalmente una cosa è avere il gas semplicemente per l'acqua calda, altro è avere una fornitura di gas che copre anche i nostri costi di riscaldamento, avere un impianto centralizzato, condominiale oppure no, vivere in una casa di città oppure in una villetta monofamiliare al di fuori della città. Insomma, il mercato dell'energia liberalizzato offre tante opportunità ma bisogna saperle cogliere e come sapete questo mercato oggi è diviso ancora in due grandi aree, da un lato la cosiddetta tutela, quindi tutti quei consumatori che sono ancora rimasti nel vecchio mercato regolamentato, fortemente regolamentato e quelli che invece attirati dalla pubblicità hanno deciso di accedere alle offerte del mercato libero. ma parlavo di opportunità per i consumatori di energia perché ci avviamo tutti inevitabilmente verso la liberalizzazione. Primo gennaio 2022, salvo rinvii, è la data stabilita per la liberalizzazione definitiva e proprio in vista di questa data, manca un anno e mezzo, non è poi così tanto, che l'Unione Nazionale dei Consumatori ha deciso di scendere in campo e di riattivare quella concezione di gruppo d'acquisto che nel nostro paese non si è mai sviluppata come invece in altre realtà. L'idea è quella di costruire un gruppo di acquisto nel campo dell'energia per aiutare le famiglie ad individuare il fornitore non solo più vantaggioso dal punto di vista economico perché qualche iniziativa del genere si era proposta in Italia ma il prezzo non è tutto e nessuno meglio di noi che facciamo tutela dei consumatori quotidianamente sa che il vero rischio oggi soprattutto nel mondo dell'energia è quello di finire nelle mani di un fornitore inadeguato che non rispetta i nostri diritti, che ci offre dei prezzi per poi cambiarli il giorno dopo, che ci inganna con una comunicazione pubblicitaria fraudolenta o che poi nell'erogazione del servizio non ci risponde ad esempio nel caso di problemi. Immaginate un fornitore che non può investire in customer care, in un call center adeguato, nella attenzione che invece è doveroso manifestare verso i consumatori. È per questo che il gruppo d'acquisto che ha appena lanciato l'Unione Nazionale Consumatori si chiama Sicuri Insieme perché abbiamo voluto coniugare la forza del gruppo e quindi lo stare insieme e quindi la possibilità di spuntare dei prezzi di grande vantaggio con la certezza di rivolgersi ad un fornitore che saprà rispettarci innanzitutto come consumatori. Oggi è solo l'inizio, il gruppo lo abbiamo lanciato da poche settimane ma potete già preiscrivervi, questo non è in alcun modo impegnativo, trovate al link qui sotto la possibilità di raggiungere la pagina per prenotare questa opportunità e poi valuterete voi nel tempo se il fornitore che l'Unione Nazionale Consumatoria andrà ad individuare con una gara e quindi che risponderà a quei requisiti di affidabilità che noi richiederemo farà il vostro caso. Soltanto dopo se la risposta sarà affermativa potrete aderire e cambiare finalmente il vostro fornitore con una garanzia in più, forse la più innovativa rispetto agli altri gruppi di acquisto. L'Unione Nazionale Consumatori non vi propone un fornitore, non vi traghetta da un fornitore all'altro e vi lascia lì anche se poi questo aumenterà i prezzi o smetterà di essere così trasparente come aveva promesso di fare, ma di anno in anno, anche aiutandovi a capire quali sono i vostri consumi, vi aiuteremo a continuare a scegliere, perché il mercato è un mercato rispettoso del consumatore soltanto se è vero mercato, con la mobilità dei fattori, primo tra questi fattori che deve essere mobile, che deve poter cambiare da un fornitore all'altro, è il consumatore. Noi ci chiamiamo dagli anni 50 Unione Consumatori, quindi di gruppi ce ne intendiamo e di tutela dei vostri diritti ancora di più, quindi potete sceglierci con la piena certezza che non sarete abbandonati. Sicuri insieme, il gruppo d'acquisto luce e gas dell'Unione Nazionale Consumatori. Aderite numerosi!